Per dire che ricordavi abbastanza giusto, fu eclatante due anni fa, ti ricordi l'esordio di Maverick Vignares con la Yamaha? Si E chiuse con il miglior tempo in uno 29,9 29,9? Mi ricordavo il 29, mi ricordavo sto 29 Chiuse in 29,9 il suo esordio con la Yamaha Intanto credo che Sandro Donato Grosso sia pronto con Diego Gubellini Immagini e voce che ci arrivano dal box Yamaha a Petronas, intanto errore di Davide Petruccio Ha avuto un suono strano soppalzo, è Gubellini che lavora lì nel team Petronas